Test invalsi agli studenti, tra proteste, slogan e striscione ad Ariano Irpino. Ecco Piano della Croce, davanti all'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Gaetano Bruno. E' polemica ovunque sullo svolgimento delle prove, e anche in Irpinia, come in altre realtà, dell'adesione di diversi insegnanti. Il messaggio indirizzato a Renzi, no agli invalsi, perché inutili, costosi e in violazione alla nostra privacy. Se questa è la buona scuola, saremo cattivi studenti. Perché protestate? Allora, siamo qui per protestare principalmente per due motivi. Uno è il decreto sulla buona scuola e l'altro è le prove invalsi. Allora, le prove invalsi sono delle prove che ledono alla nostra libertà, alla nostra privacy, e inoltre sono costose ed inutili. Mentre il decreto sulla buona scuola è un decreto che lede i principi democratici e egualitari. La scuola è nostra e non si tocca! La scuola è nostra e non si tocca! La scuola è nostra e non si tocca! Grazie a tutti